Allora andiamo a vedere un po' oggi su Epic che ci sarà, sicuramente ci sarà un altro gioco di merda la settimana prossima Allora, apriamo un po' Epic Store, scendiamo un po', vediamo un po', questo è il gioco di Star Wars Battlefront 2 Celebration Edition Ciao a tutti ragazzi, come tutti i giovedì eccoci qui con l'Epic Week Direi di lasciar perdere direttamente quel gioco di merda che ci regalano questa settimana E andiamo a vedere il giochino di merda, non proprio, che ci regalano la settimana prossima Star Wars Battlefront, più o meno diciamo la intro è stato un po' quello che io ho fatto oggi Quando sono andato a guardare cosa usciva poi la settimana prossima Diciamo che più o meno la mia reazione è stata questa qui Allora, veramente lasciamo perdere quell'altro gioco perché non voglio sapere manco come si chiama Perché è una merda, come sempre Finalmente dopo 15 giorni di giochi consecutivi Un gioco di merda questa settimana Finalmente la settimana prossima esce un gioco Bello Battlefront 2 poi, manco l'1, il 2 ci regalano Non so se lo conoscete Comunque è il Battlefield di Star Wars Quindi diciamo è ambientato nell'universo di Star Wars Fece anche un video comunque tempo fa del gioco Il tutorial, no il tutorial, invece il gameplay Quindi andatevi a vedere anche il gameplay Magari lo troverete, metterò qui sopra il link per andarvela a vedere Storia bellissima Ma soprattutto multiplayer fantastico Perché ci sono, c'è il multiplayer a livelli di Battlefield Quindi ambientazione, ripeto, Star Wars Quindi potrete anche usare i personaggi storici di Star Wars Ci sono delle, diciamo, battaglie in cui si possono usare Questa è la Celebration Edition Quindi penso sia l'ultima versione del gioco E quindi ci sono anche, diciamo, tutta la saga nuova di Star Wars Dovrebbe essere presente E raga, non so che altro dire Cioè, veramente sono rimasto di merda quando l'ho visto Perché ormai non mi aspettavo più niente Da Epic Game E invece mi ha piacevolmente stupito Fuori dalle feste E poi altra cosa Che mi lascia perplesso È che questo è un gioco della EA Cioè, parliamo di, appunto, di Battlefield Quei giochi lì FIFA Quindi adesso questo connubio EA Epic È abbastanza nuovo, credo Perché non mi sembra che vendessero i giochi Dell'Epic Game Dell'Electronic Arts Quindi sull'Epic Game Non mi sembra di averli mai visti Forse mi sbaglio Però non credo Fatemi sapere Magari se sapete che c'è Nel negozio dell'Epic Qualche gioco dell'Electronic Arts Ma mi sembra di no Cioè, almeno Almeno il regalo Non li hanno mai dati Questo potrebbe aprire strade nuove A livello pure di giochi gratis Magari Vecchi Perché Battlefront 2 È vecchio Però adesso vi dico di che anno è Allora, ho controllato È del 2017 Quindi ha solo i tre anni Quindi il vecchio proprio non è Ed è la Celebration Edition Ripeto Quindi è l'ultima Credo sia la versione più aggiornata Del gioco E sarà presto disponibile Cioè la settimana prossima Quindi lasciamo perdere questa settimana Cancelliamola E puntiamo direttamente al Al 14 gennaio Esatto Vediamo anche qui Disponibile Sì 14 gennaio Ragazzi Notiziona Inaspettatissima Sono contentissimo Perché è un bellissimo gioco Da giocare sia in single player Sia in multiplayer Quindi Perfetto Basta Mi fermo qui Non ho più parole Mi raccomando come sempre Se vi sono stato utile Iscrivetevi al canale Attivate la campanellina Lasciate un like sotto al video Sempre se vi va E noi ci vediamo ad un prossimo Chissà quanto Speriamo presto Ciao Ciao